Ciao a tutti, nel video di oggi vi mostro gli acquisti che ho fatto alla fiera di Bergamo, creativa, che si è tenuta dal 3 al 6 ottobre. Noi siamo andati il 6 ottobre e abbiamo fatto un po' di acquisti e vi mostro anche qualche creazione che già ho realizzato. Allora, non so se riesco a farvi vedere un po' gli stand. C'erano davvero tanti stand, erano suddivisi in due padiglione, un padiglione A e un padiglione B. Quindi, aspettate, vediamo se viene meglio. Ok, quindi c'erano vari negozi di genere diversi, quindi c'era dalla cucina, alla ceramica, al tessile, c'erano anche dei negozi di carta carini. E abbiamo girato questa fiera e abbiamo fatto vari acquisti. Ci serviva, diciamo, del materiale per fare delle bomboniere per una cresima che hanno chiesto a mia sorella. E qui a Milano non avevamo nulla per la resina. Quindi ho dovuto ricomprare questo stampino che avevo a Ischia. Perché le volevo in questo stampino. Per fortuna l'ho trovato. E poi ho dovuto comprare foglia oro. Eccola qui. L'ho pagata 3,80 euro. Questo set con foglia oro, foglia argento e foglia rame. E i fiori rossi. Perché era una richiesta, li volevano con i fiori rossi. E abbiamo comprato questi due set. Questo era il primo di avanzi, perché alcuni già li ho inglobati. E questo era il secondo set. Poi ho comprato, per fare queste cose, questa specie di frammentini di vetro. Per dare qualche effettino diverso. Vediamo dopo come sono venuti. Poi, i pinata. Ho preso il bianco. Eccolo. Il classico che non avevo qua a Milano. Poi comunque lo porto a Ischia e si usa sempre. Poi ho preso questo cernit al collinca. Che non avevo mai provato. E rosso. Poi ho preso un americana deco art. Questo acrilico bianco. Anche questo già ce l'avevo. Poi ho preso un altro acrilico rosso. Sempre dell'americana. Poi ho preso questo nastrino per fare le creazioni resina UV. Perché ho trovato queste specie di charmo per mezzel molto fini. E l'idea era di andare a inglobare qui dentro dei fiorellini. Per poi farci degli orecchini o altro. Quindi ho preso questi due con l'argento. Questi cerchi così con l'oro. Questi cuori sempre con l'oro. Questi erano i primi tre che ho trovato a uno stand. Poi ho comprato anche questi più grandi. Fatti così. Ah, qua c'è anche il nome forse dello stand. Sì, se siete interessati è il paio lo magico. E abbiamo preso due di questi. Fatti in questo modo. Queste sono le informazioni dello shop. Poi, in un altro negozio c'era tipo la possibilità di buttare tante pietre in un sacchetto. Lo potevi colmare fino alla fine e pagavi tutto un euro. Quindi abbiamo fatto questa raccolta di pietre. E che mia sorella può usare per fare delle decorazioni a orecchini o altro. E mi piace molto l'idea. Comunque carina. Abbiamo preso tutte queste. Non ve le apro perché sennò poi è un casino. Le dobbiamo ancora mettere a posto. Poi, ho comprato sempre per la resina. Tipo questi glitter a fiocco di neve sul celeste. Poi, altra cosa che ho trovato sono queste rose resinate. Alle quali è stato già messo il perno. E ci vorrei fare degli orecchini. Non so se si rendono. Sono dei boccioli di rosa veri. Fatti in questo modo. Poi, ha lo stesso stand delle rose. Ho trovato a 50 centesimi l'uno. Questi cabochon. Sui quali voglio andare poi a creare delle bamboline in resina. Ne mostro un po' alla volta. Allora, questi sono i primi tre. E qui di lato ci vorrei fare delle bamboline. Piccoline. Poi, questi due ovali. Fatti così. E questi altri con forme un po' più particolari. C'era questo. Questo con queste margherite. Questo con le rose. E niente. Volevo fare qualcosa di diverso. Provo a fare delle bamboline su queste basi cammeo. Poi. Allo stand questo qui. Che si chiama Polymer Cray. Ci sono tutte le indicazioni dello shop. Ho fatto vari acquisti. Ho comprato lo stampo che vi ho mostrato prima. Poi ho comprato questo stampino per la resina. E lei è la signora che realizza questi stampini. Che era lì. E anche lo shop. Penso che gestisce lo shop col marito. E ho preso questo stampino. Fatto così. Per farci orecchini e ciondolino. Poi ho preso un panetto di fimo bianco. Questo qui da 454 grammi. Poi ho preso un panino di fimo. Questo qui professional. Il colore è viola. E uno sempre professional turchese. Quindi ho preso anche un po' di fimo. Poi ho comprato questa lima. L'avevo presa già l'anno scorso. Mi sono trovato bene. E ne ho acquistato un'altra. E infine sempre da lei ho acquistato queste altre due colorazioni di quelle pietre che vi ho fatto vedere prima. Quindi questi tre vasetti era il tris 10 euro invece che 4,50 euro l'uno. Quindi ne ho pagati tre 10 euro. C'è molto materiale. E' un materiale che non avevo mai utilizzato. Mi ha incuriosito e l'ho comprato. Quindi questo era tutto il racconto dei miei acquisti alla fiera creativa di Bergamo. Ora vi mostro le creazioni in resina. Faccio spazio e ve le mostro. Allora, eccoci con le creazioni. Inizio dallo scartino che è questo qui. Quindi mi era avanzato un po' di resina trasparente con foglia oro, un po' di resina bianca e un po' di resina rossa. E ho buttato tutto qui dentro e il risultato è questo qui. Dai, non è malvagissimo. Considerando che è uno scarto è simpatico. Eccolo. Questo è il primo cuore. Poi passiamo agli altri. Allora, secondo cuore fatto così. Qui dentro ho inserito questi vetrini che hanno fatto questo effetto un po' particolare. Sembra nero. In realtà non è che sembra. Si vede che è nero ma erano questi qui. Quindi non so. Non mi convince tantissimo il risultato. Peccato. Poi stessa cosa per quest'altro. Forse è un po' più carino. È fatto così. Questi sono i cuori fatti con metà bianco pignata e metà alcol ink rosso. Sì, foglie argento e quelle scaglie che vi ho fatto vedere prima. Poi questi in realtà sono tutti uguali. Ho inglobato questo fiore e ho fatto poi uno sfondo con resina trasparente e foglia oro. Questo è il primo. Infatti sei uguali. Questo è il secondo. E questi servivano per fare quelle bomboniere che vi dicevo prima. Quindi questi sono i primi due. Poi terzo. Non sono uguali e impossibile facendoli io a mano. Però secondo me sono molto carini. Fatemi sapere se vi piace come idea. Poi si trasformeranno in portachiavi. O ciondolini. Cioè ci farò un foro. E poi mi diranno come trasformarli. Questo è il quarto. Questo è il quinto. Fatto così. Sono un po' di scartini da togliere ma è facile. E infine c'è il sesto. Eccolo. Dai non sono venuti male. Vi mostro tutti insieme. Secondo me fanno un bel effetto. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto. Nel caso mettete un like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Nei commenti fatemi sapere se anche voi eravate alla fiera. Grazie e alla prossima. Ciao.